Passiamo ora alla scheda tracciamento del ponteggio. Vanno indicati sempre in modo descrittivo alcune indicazioni relative al tracciamento del ponteggio, in particolare relative al controllo di verticalità, alla distanza tra il ponteggio e l'opera servita, l'impostazione della prima campata e il livello bolla del primo impalcato. Anche queste sono tutte caselle di testo che possono eventualmente anche essere dimensionate in modo diverso, posso eseguire il copia e incolla da altri documenti che ho a disposizione e quindi la compilazione è molto semplice. In questa scheda, invece nella scheda relativa a DP e dispositivi anticaduta, devo mettere un elenco dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dei lavoratori e anche dei dispositivi anticaduta. Sono due tabelle molto semplici, nel senso che l'inserimento avviene semplicemente utilizzando il tasto più e mettendo le descrizioni che riteniamo necessarie, eventuali righe possono essere anche cancellate con il tasto rimuovi. Stessa cosa per i dispositivi anticaduta per i quali posso anche riportare la norma uni di riferimento. A questo punto passiamo alla scheda successiva relativa alle attrezzature. L'indicazione questa volta è relativa appunto alle attrezzature che utilizzerò nel montaggio o nell'uso del ponteggio. Posso aggiungerne con il tasto, utilizzando il tasto più, mi si apre questa maschera che mi richiede il nome dell'attrezzatura, quindi posso inserirla direttamente oppure, cliccando su questa icona, posso attingere dall'archivio attrezzi del programma. Ricordiamo che questo archivio è diviso in due sezioni, l'archivio utente che inizialmente è vuoto e l'archivio tecnobit che non è modificabile. Se ho bisogno di eseguire una ricerca posso o mettere in ordine alfabetico l'elenco, l'archivio presenti magari in ordine di nome, oppure fare una ricerca o in base al nome o in base alla descrizione. Metto il nome da cercare, premo il tasto tab e il programma mi filtra tutti gli attrezzi presenti in base alla descrizione che ho messo. Se trovo l'attrezzo che mi interessa lo seleziono e lo metto all'interno del mio documento, se voglio eseguire un attrezzo presente nell'archivio tecnobit, da qua non lo posso fare, però posso col tasto destro del mouse copiare il record selezionato nell'archivio utente. A questo punto, con il tasto modifica, entrare e modificare le descrizioni presenti. Per ogni attrezzo è presente, oltre al tipo di attrezzo o nome, una descrizione, le avvertenze, prima, durante e dopo l'uso e relative rischi e eventuali DPI associati. Dal punto di vista però del PIMUS, quello che interessa soprattutto è il nome, la descrizione e poi le modalità d'uso relative però proprio al, in questo caso al ponteggio, e quindi vanno eventualmente inserite direttamente qui. Se voglio eliminare una qualche, qualcuna delle attrezzature inserite, utilizzo il tasto rimuovi. Nella maschera relativa agli ancoraggi, devo andare a indicare quali sono gli ancoraggi che vengono fatti nel montaggio del ponteggio. Anche qui, in questa tabella, devo, per aggiungere degli ancoraggi rispetto a quelli presenti o nel caso sia un lavoro vuoto, utilizzare il tasto aggiungi, mi si apre, mi si crea una riga aggiuntiva alla tabella, nella quale vado a indicare la tipologia, quindi il tipo di ancoraggio che sto inserendo, la struttura di fissaggio e le modalità di realizzazione. Anche qua, volendo, vale il concetto che posso scrivere direttamente, oppure anche fare il copy and call da documentazione esterna, o anche da, eventualmente, altri piani già fatti.